Via libera in Commissione Affari Istituzionali a Larsa, al terzo mandato per i sindaci dei comuni, al di sotto dei 15.000 abitanti. Il disegno di legge, proposto dai forsisti Stefano Pellegrino, Tommaso Calderone e Riccardo Savona, ha ricevuto il via libera dell'organismo di merito, ma anche il parere positivo da parte del governo. I tre deputati chiederanno adesso una corsia preferenziale per la norma in aula. L'obiettivo è che possa essere legge già dalla prossima tornata elettorale delle amministrative di primavera. I tempi ci sono, dice Pellegrino, ma soprattutto con questa norma evidenziamo ancora di più la scarsa vocazione politica dei piccoli comuni, tendenzialmente più legati a movimenti civici. Favorevoli anche i sindaci dell'Anci Sicilia, che da tempo chiedevano una norma che superasse il limite del secondo mandato nei piccoli centri. Si tratta di una proposta che abbiamo avanzato, dicono Leoluco Orlando e Mario Emanuele Alvano, Presidente e Segretario Generale dell'Associazione, ponendo il presupposto che tali limitazioni non appaiono giustificate, in quanto non trovano corrispondenze in altre cariche istituzionali. Apprezziamo la proposta assunta dalle diverse forze politiche presenti in Commissione, il fatto che il governo regionale, per tramite dell'assessore Marco Zambuto, abbia espresso parere favorevole. Ci auguriamo adesso che l'Aula, dicono Orlando e Alvano, possa esprimersi prontamente con un consenso ampio e trasversale, affinché la norma possa trovare applicazione fin dalle prossime elezioni amministrative.